Riccardo Maniero, Valeri Boginov e Gennaro Borrelli, ovvero tre uomini per una maglia. In casa Pescara è già pronto il trailer per la prima, con tre attori che puntano al ruolo di protagonista per il ritorno in campo dopo lo stop causa Covid. Dopo l'infortunio di Tuminello, sono infatti Maniero, Boginov e Borrelli a contendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco del Pescara, dove il solo galano è ritenuto inamovibile. Per la sfida la Juve-Stabia, che riaprirà le ostilità il 20 giugno, mister Le Grottaglie sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 che ha proposto in tutte le otto gare della sua gestione, anche se negli ultimi giorni, in un poggio degli olivi ovviamente blindatissimo, sta provando anche moduli alternativi, che prevedono tutti una punta in più e un difensore in meno. C'è ancora più di una settimana per sciogliere il dilemma, ma il Borsino attualmente parla di Maniero favorito su Boginov, con il bulgaro pronto a subentrare per fare il suo esordio casalingo in maglia biancazzurra. Intanto domani la truppa avrà una doppia seduta di allenamento a porte chiuse e nella circostanza verranno effettuati nuovi tamponi e test seriologici a tutti i testerati. Sabato pomeriggio invece, sempre a porte chiuse, i biancazzurri saranno impegnati in un amichevole in famiglia, prova generale per il debutto bis all'Adriatico.